buongiorno ragazzi buongiorno oggi direttamente dal bunker viola dal bunker 44 viola si può essere anche contenti e la partita di ieri adesso andiamo a analizzare per bene perché ci sono delle cose che francamente mi sono piaciute altre mi sono piaciute meno la cosa mi è piaciuta di più è che comunque non ci siamo fatti del male non tanto per il fatto che i giocatori sono tutti integri almeno si spera ma proprio per il fatto che si ci si mantiene a un punto il napoli come ho detto ieri sembrava anni luce dal voler entrare il prossimo anno in conference però però statistiche alla mano i loro tiri in porta l'hanno fatti addirittura hanno preso anche un palo la prima volta che succede che il palo prenda gli altri invece che noi e comunque potevano tranquillamente portarsi a casa il bottino pieno quindi bene che alla fine ci sia stato questo pareggio che anche a detta di italiano sembra essere il risultato più giusto da entrambe le parti allora cosa mi è piaciuto di più e cosa mi è piaciuto di meno cosa mi è piaciuto di più è ovviamente il fatto che continuiamo a essere lì chiaramente dobbiamo consolidare il nostro vantaggio la prossima partita andremo a cagliari con un cagliari che avrà il coltello fra i denti perché l'ultima in casa e dovrà assolutamente vincerla perché altrimenti rischia forte in zona retrocessione quindi non sarà una partita facile però insomma io credo che la fiorentina abbia tranquillamente nelle corde questa partita come lo era la partita di ieri è perché parliamoci chiaro un napoli che era l'alter ego completamente all'opposto di quello che era l'anno scorso visto l'anno scorso campione d'italia quest'anno veramente moralmente distrutti moralmente imballati francamente mi aspettavo sì una partita con una squadra da dal volto totalmente opposto però gli ho visto fare e commettere delle ingenuità che non è da napoli non è da campione d'italia sicuramente lì c'è veramente e questo l'ha confermato anche mazzocchi in conferenza stampa c'è una un'aria molto pesante quindi sarà una rifondazione vediamo se con italiano o senza italiano nel frattempo tra l'altro rispondo brevemente a tutti quelli che mi stanno chiedendo per Atene allora per Atene io non ho informazioni perché prima di tutto non andrò a Atene per motivi di lavoro poi in realtà sono un po' mi rimetto un po' a quello che apprendete anche voi cioè non ho informazioni ulteriori l'unico consiglio che vi posso dare è vero che è svincolato dai charter che è la spesa più pesante perché quella è un'organizzazione si può dire quasi interna per noi tifosi viola però l'unica cosa che vi posso dare è un consiglio per esempio sugli alloggi e quindi vi invito a utilizzare lo sponsor del canale che è NordVPN anche per usare programmi tipo booking o quant'altro perché potete trovare collegandovi al server greco comunque di un altro paese delle opzioni molto interessanti tra l'altro il link lo trovate in descrizione ci sono tutte le informazioni sul servizio su quelle che è la promozione valida fino al 30 di giugno tra cui avete anche pensate in omaggio 50 euro di voucher da utilizzare su più servizi tra cui anche Amazon e se non sbaglio anche la Pay TV quindi buono a sapersi per quanto riguarda insomma le cose che non mi sono piaciute della partita di ieri sicuramente la gestione ultima quella proprio ultimamente del centro campo io non capisco come mai si debba sacrificare un giocatore prezioso come Bonaventura prezioso proprio in termini non solo di gol ma anche di qualità che tra l'altro ultimamente non ha nemmeno questa forma integra per far per forza giocare questo Beltran che abbiamo visto sì buon giocatore però rimane molto lì non è un giocatore che sicuramente rispecchia l'investimento fatto in estate non è un giocatore che ti sta facendo la differenza per mettere nelle condizioni un giocatore che ad oggi dopo dieci mesi ancora non ha capito se è un attaccante o un centrocampista noi stiamo sacrificando Bonaventura che era uno fra i più prolifici è uno di quelli che è diciamo con un livello e un tasso tecnico superiore agli altri arretrandolo in una mediana che per me non ha senso è chiaro che di contro si ha anche uno spostamento dell'opinione pubblica che va addosso ma non tanto per cercare di difendere Bonaventura ma perché credo sia sotto gli occhi di tutti va addosso a Bonaventura gettandogli merda quando questo giocatore prima di tutto non è nelle condizioni ottimali ma poi gioca in un ruolo che non gli appartiene abbiamo un Duncan in panchina utilizziamo lui poi probabilmente è perché non sarà al 100% però se mi dici viene sacrificato Bonaventura perché davanti nella tre quarti voglio far giocare Barak voglio per esempio rispolverare Castrovilli che tra l'altro forse adesso col fatto che è stato tanto fermo ieri l'ha un po' risparmiato però insomma voglio mettere in sesto questi giocatori ok ma un Beltran che ultimamente io veramente mi sembra che galleggi a metà campo mi sembra assurda o me cosa molto meglio infatti quando è stato sostituito Bonaventura l'ha avanzato un pochettino inserendo Mandragora quindi ancora non Duncan però sicuramente molto meglio ripeto ieri la Fiorentina ha rischiato in certe occasioni il primo tempo soprattutto nei primi 30 minuti non era l'approccio che doveva esserci a questa partita abbiamo preso gol sempre la stessa maniera sì è vero c'è la spinta su Martínez Quarta ma ragazzi il calcio è un gioco fisico quindi quelle cose succedono infatti non sono punibili e la cosa che però mi viene da pensare è come mai Martínez Quarta l'ennesima volta anche dopo il gol di Juric continui a marcare spalle al difensore cioè questo ragazzi penso sia soprattutto per un difensione centrale l'ABC cioè prendiamo gol e questo che tutto l'anno per cui mi sono incazzato prendiamo gol stupidi da bimbetti che francamente sono molto evitabili e ti hanno compromesso gran parte di questa stagione perché ora certo siamo tutti proiettati da Atene soprattutto quella di ieri se non ci fosse stata la finale da Atene ieri si era tutti incazzati neri parliamoci chiaro siamo tutti proiettati da Atene come giusto che sia però ragazzi prendiamo gol da bimbetti se te fa conto quelle 30 minuti lì lo fai contro l'Olimpiakos che è una squadra assolutamente mediocre ma che comunque ti può far male perdi una finale cioè queste sono banalità e purtroppo noi tutto l'anno in questa maniera tutto l'anno in questa maniera e più volte ci siamo incazzati soprattutto in questo canale poi comunque le nostre azioni le abbiamo avute però i rischi sono tanti i rischi sono tanti e soprattutto infatti alla fine potevano farti il gol anche con Politano del 3 a 2 poi chiaramente il 2 a 2 è stata una perla di Varaschelia ok bellissima non gli si può di nulla così come non si può di nulla a Biraghi per la sua punizione però ragazzi cioè questi sono punti che dovevi portare a casa perché di base questo Napoli era assolutamente alla tua portata e sembrava non neanche volesse far male fino a un certo punto il problema di questa Fiorentina è che finché non prende gol non si sveglia questo è un mantra un must di tutta la stagione andiamo sul pagellone Terracciano gli do 5 e mezzo non poteva fare nulla su Varaschelia poteva fare qualcosina in più però secondo me sul gol dell'1 a 0 Dodò gli do 6 buona spinta buona copertura Varaschelia in realtà palla al piede non ha impensierito tantissimo Dodò e gli altri quindi merito ce l'ha anche lui quarta gli do 5 per la grossa ingenuità poi siamo d'accordo che è uno dei più in forma forse della nostra difesa però ecco pur di non sacrificare Buonaventura teniamo Buonaventura tre quarti e quarta per esempio compagno di Arthur non mi sembra una cattiva idea è vero quando avevi 100 partite davanti a te poteva essere un rischio perché eri contato numericamente però adesso mancano due partite voglio dire due o tre partite lo potrebbe anche provare uno schema del genere Milenkovic ci do 6 forse quello che ha impensierito di meno su tre centrali quello un pochino meglio però sì forse una leggera ripresa da parte sua ma ancora siamo lontani dalla forma ottimale Biraghi gli do 6,5 il mezzo ovviamente è principalmente per la punizione lui sulle punizioni tipo di niente su calci piazzato piazzati però qualche erroraccio qualche piccolo impensierimento l'ha avuto soprattutto insomma dalla sua fascia e soprattutto nel primo tempo non è che la gente ce l'ha ecco io ieri ho letto dei post abominevoli su un Zola e Biraghi cioè nel senso quelli più criticati questo vi insegna a tutti ragazzi non è che se un tifoso critica un giocatore è colpa del tifoso è colpa delle prestazioni fornite da quel giocatore quindi finiamola di dar colpa sempre ai tifosi poi è vero ci sono alcuni che calcano un po' troppo la mano e quelli non ragionano sono tifosi di pancia distinto è anche per sentito dire siamo d'accordo però Biraghi la croce si porta dietro Biraghi perché io francamente Biraghi l'ho stimato tantissimo nella gestione Pioli e ovviamente italiano non ha esaltato le caratteristiche però tanta gente si porta dietro i retaggi di Biraghi per tre anni tre anni ignobili nel post Pioli transizione italiano dove Biraghi ha fatto delle cappelle ragazzi innegabili quindi è chiaro che l'attenzione va su di lui poi adesso c'ha il confronto con Parisi e siamo d'accordo le cappelle le fa Parisi ieri mi ha fatto anche cagare Parisi per come è entrato mi aspettavo tanto di più però ragazzi cioè di rigori nada prende 100 Parisi per equiparare le cappelle fatte in quei tre anni ma anche di più di Biraghi cioè quindi sondiamo un po' ok che siamo d'accordo che Biraghi ha raggiunto il top della potenzialità coitaliano però adesso io piglio per il culo gli statistici di Biraghi perché sembra d'avere veramente il Roberto Carlos De Noatri cioè grande persona ma giocatori lasciamone stare e altre cose Buonaventura 5,5 anche lui appunto il grande limite è secondo me la posizione oltre ai problemi fisici non è più il Buonaventura di inizio stagione non è il Buonaventura che andrà che andrà agli europei non ci andrà quindi mi dispiace per lui vedremo poi che fare a fine stagione il rinnovo automatico non c'è perché manca una presenza io non voglio fare la malelingua probabilmente è veramente legata agli infortuni però ha proprio una presenza non lo so dopo tutto quello è successo a gennaio un pochino scusate fatemi dubitare Arthur 6 Arthur 6 francamente non era la prestazione precedente però sì un po' al piccolo trotto però quando esce palla al piede si vede la qualità Mandragora 6 è quello che mi è piaciuto di più francamente di tutti i centrocampisti l'unico un pochino più energico e mobile Beltran gli diamo 5 e mezzo è un giocatore ci ha anche provato è un giocatore che si vede lotta grintoso però secondo me è diventato un po' il figlioccio della tifoseria solo perché è argentino perché al numero 9 lo aspettiamo assolutamente non si può giudicare dopo la prima stagione però non si può non si può essere contenti di sto Beltran che dopo 10 mesi ancora non si sa dove ha leggi quindi io lo vedo tanto galleggiare in mezzo al campo alla ricerca di questo pallone sperduto ma poca roba Nico González si diamo 5 parte bene poi sparito completamente peccato perché sembrava dopo la sfida precedente sembrava un Nico González assolutamente ritrovato qua me gli diamo 6 sulle fasce è quello che mi è piaciuto di più Iconé gli darei senza voto francamente a un certo punto ci ha fatto prendere anche una posizione una punizione molto pericolosa però comunque è un giocatore che a meno che non mi faccia 10 gol a partita di cui alla fine per me il prossimo anno è il primo che deve partire il primo che deve partire non lo sopporto più non lo posso più vedere González gli diamo 6 e mezzo per la grinta per la voglia per il gol che non è stato né un brutto gol né era tanto facile e Belotti infine gli diamo un bel 6 perché si procura un rigore anche se si è buttato in terra però insomma i movimenti è entrato subito in partita si vede che non è nelle migliori condizioni a me Belotti come ho detto più volte piace per me se la Fiorentina però non succederà mai perché sarebbe un esborso troppo grosso ma se decidesse di confermarlo il prossimo anno sarei contento chiaramente come chioccia della vera prima punta ripeto è un'utopia perché l'esborso economico sarebbe folle però insomma io non posso essere scontento di Belotti l'unione cosa è il suo scontento ed è la cosa principale è purtroppo perché fa l'attaccante è per il tabellino dei gol quello quello è penoso ragazzi è penoso è dal terza categoria è come se uno di terza categoria entrasse in serie A fa gli stessi numeri di gol dei nostri attaccanti quindi che ti dico non posso dargli la sufficienza piena lo vedremo nel pagellone finale però quantomeno ha il merito di avere un po' smobilitato l'attacco a italiano gli do 6 un avvio pessimo poi piano piano esce la Fiorentina in palleggio in in possesso qualche timido tiro in porta e poi insomma la perla di Biraghi e il bel gol di Nzolà fanno tutto il resto però i rischi rimangono adesso la testa ovviamente a Atene finire nel migliore dei modi sicuramente la partita di ieri però è lo spettro è la fotografia di tutta la stagione commentate voi con la vostra visione forza viola e JM Matilde JM a M a M a M a M a M a M